Riccardo Massi, preparatore atletico della San Giovannese, manca una settimana, poco più al termine, o meglio all'inizio della stagione regolare con la Coppa. Questa fase di preparazione, facciamo un po' di assunto, com'è andata? Allora, diciamo che a grandi linee è andata bene, ci sono stati qualche piccolo problemino fisico derivato un po' da qualche sovraccarico, però tutte cose abbastanza valutabili e invece per quanto riguarda il lavoro, il lavoro è andato bene, siamo riusciti con il mister a lavorare molto bene. Bonura, nelle ultime interviste ha parlato anche di carichi molto importanti, questo anche lo si è visto nelle amichevoli. Quando pensate che potremmo vedere la San Giovannese già in una forma ottimale per il campionato? Allora, intanto veniamo da tutte le giornate dove abbiamo fatto doppie sedute, quindi a livello di carico è già tanta roba questo da smaltire. Io penso già dalla prossima settimana, andando a fare sedute singole e programmando solo la partita settimanale, si potrebbe iniziare già ad avere una gamba un po' più brillante. Visto che c'era anche lo scorso anno, che gruppo ha a disposizione sotto il profilo prettamente fisico rispetto a un anno fa? No, a livello fisico hanno risposto tutti molto bene, è una squadra, siamo giovani, quindi hanno voglia di fare, voglia di mettersi alla prova, quindi stiamo lavorando bene, i ragazzi rispondono bene. L'ultima cosa, visto che qualche problemino c'è già stato, Nieri dovrebbe essere arruolabile per il Terranuova in Coppa? Allora, Nieri dovrebbe rientrare da martedì e sarà da vedere un po' a livello fisico come risponde, vediamo se perlomeno in panchina si può portare, se no andremo alla settimana successiva. Allora, Nieri dovrebbe essere un po' a livello fisico come risponde,